serve rerun? si perchè cerco perchè c'è un achievement c'è c'è no c'è un achievement dopo tipo devi fare tre rerun se non ricordo male c'è un achievement devi finire tre volte rerun e c'è un achievement e l'altra volta diventi dell'osso senza alimento cinque bombe giusto così allora binchia buona binchia buona diventi no minchia cioè diventi break il mio cervello non ce la può fare più ma non ce la posso fare cioè se mi succede di nuovo ok ma no perchè ti ho così male da fare una gridere con dell'osso mi manca questa mi manca questa o mi mancano tipo neanche mega satana con dell'osso o mega satana con grid con keeper o qualcosa con keeper quindi quindi nel senso non so quanto vado in meglio eh poi facciamo keeper tra un po' eh insomma facciamo keeper allora e un tears up una scocciocciotta è carina le cose facili eh quello mi rimane una cosa è facile l'ho già fatta anche se è difficile l'ho già fatta tipo delirium con dell'ost da ubriaco tra l'altro che bei tempi allora potrei andare a comprare da bere però sarebbe un cattivo esempio per i giovani ma non mi ricordo era la live dove ho battuto delirium con dell'ost che ero ubriaco ubriaco vabbè che stavo bevendo ho cominciato con proprio il concetto di bevo e gioco con dell'ost oppure tipo ho iniziato così a bere mentre giocavo seguendo le regole di un drunk live di un drunk play e poi ho detto no vabbè facciamo dell'ost che mi sento carico non mi ricordo la grid mode normale con napoleon l'hai fatta non ne ho idea non so neanche come si può controllare tra l'altro buttare i centesimi perché è la giusta quantità ah avevo iniziato con Isaac capito se va bene potrei farlo con dell'ost non mi fa lavoro con dell'ost ok vediamo la chiavita andiamo a vedere ci spettano la stanza wow il mio è del mal morto che bella la vita sto per di nuovo monete no mi ridà le monete ecco il cazzo ok troppe mosche non riesco a colpirlo oh toto toto accolgo le monete prima di morire così proprio proprio perché si ah l'avete acceso voi grazie mi stavo per partire al momento toto cioè africa dei toto no comunque se esce kamikaze ah ok dicevo se esce kamikaze non muoio se esce kamikaze mi faccio un danno se ho l'alimental mi tolgo l'alimental intanto l'alimental l'ho perso perché è stato fermo a vedere cosa succede che effetto fa fico incrociato cazzo muori per favore mostro so che chiedere tanto però per favore muori tanto tanto rinascito oh su i gargling campioni sono minchioni si più che altro hanno ucciso l'odolfo oh grazie allora piano piano non ce l'hanno tutti bello è bello come Isaac batta gli occhietti per sparare le lacrime è sempre carino questo tocchino di classe quindi se uno avesse mai dubbio se fossero lacrime o no guardatelo soprattutto per il fatto che caino ne sparano a sola è una cosa bellissima perché hanno occhio chiuso allora dai satana 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 c'è di meglio eh c'è di meglio ma scusate eh charge bars sono on perché non me la fa vedere dovrebbe farmi vedere la barra che si carica no semplicemente ogni tanto mi dice che mi dice quando è pronta e basta sembra una mezza manchiata ma va bene andiamoci pa 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 oh ciao the rock poteva andare meglio come patto con la satana ma almeno un patto con satana ok magic mushroom magic mushroom molto ok è stato un patto decente si decente deve andare meglio ma decente va già qualcosa beh certo oh che bei cuori neri ok non mi serve mi serve se devo ricaricare il necronomicon credo credo funzioni che oggete di merda spider bite può andare meglio può andare peggio ripeto è una rank che non sta andando male deve solo migliorare un pochino perché in grider non deve preso un danno un po' da piccio me lo merito non ricordavo come ricordavo perché penso di averlo trovato due volte nella mia vita l'occhio di Belial no non è una merda diciamo è un buon è un buon punto di partenza ecco mettiamola così è un buon inizio il necronomico lo uso se ho bisogno perché è una ricarica della madonna e usarlo su tre nemici quando la stanza è rimpio di nemici e sei proprio overwhelmed allora vai di necronomico questo vuol dire che è l'1-11 vuol dire che è la prima ondata delle 11 ondate cioè le 9 che arrivano poi 2 di boss e poi 4 di consertano al massimo 28 monete e niente devo regolare ok ciao Carmelo ma questo ma questo sarebbe carino perché così non devo più comprare chiavi però vale 15 centesimi non credo cioè qua adesso magari sì perché non c'è più un cazzo da comprare potrebbero mettere la transformazione in Belial tipo adesso e necronomico ne ci può stare ok no ci sono abbastanza oggetti questo è danno ok adesso compriamolo 2 play non ne vale la pena perfetto l'ho già appena comprato 2 play ci sta a tirare dai soldi come ti dai soldi tirare da 5 ah sì ah non lo sapevo allora ma allora conveniente conviene allora ho fatto bene lo sapevo ok ok andiamo qui patti con satana bene 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 trial attame non mi serve a niente ma gappi serbo non mi serve a niente ma è un pezzo di gappi quindi dai quindi dai come verità monete penso abbia dato 5 perché se sono a 10 dovrei essere a 5 poi sì devo spendere 3 centesimi per entrare nelle porte quello sì cioè un centesimo devo spendere ok quel cotangare è estremamente buono un centesimino ah dogtut un po' di danno solo della san segreta non mi interessa so qua c'è la san segreta grazie no questo abbaio qui è c'è il micro space se non ricordo male il tipo di abbaio famine famine non mi ricordo cosa fa gli oggetti qui non mi servono assolutamente a nulla non posso enrollarli quindi niente terrò i soldi ok sta bene è sempre rischio di usarli dentro perché se c'è un bad trip sei morto quindi usiamo lì fuori question mark si prende si esce are you a wizard wizard ok ok perks eh sarebbe stato carino usarli qui dentro sarebbe stato una cosa più intelligente ehi io intelligenza a volte spesso quasi sempre non navighiamo bene insieme allora aspettiamo che finisca l'effetto di aruia wizard perché non vorrei mandermi a mignotte una run il vero dell'host è in mezzo a cuore di fede no ah ok è finito l'effetto ah era spawnato solo quello ok si sta spawnando abbastanza poca roba guarda sono piercing shot minchia l'occhio di bellaglia sono piercing shot no ok allora era un patto molto migliore già solo avere piercing shot no dai gg su mannaggia no ok funzionato ok quindi dopo questa manca solo un'ondata ok con trip i pistrelli probabilmente sono immune usando molte voi bene ben trip con dell'host diventa diventatamente un full health ah ok perfetto dell'host ha un mezzo cuore dei fede invisibile si potrebbe potrebbe anche dire che ha un mezzo cuore rosso invisibile un cuore eterno invisibile potrebbe essere qualsiasi tipo di cuore si lo so qua c'è un cross space non so dov'è non posso cercare direi non posso farci niente teniamo i soldi modo e poi pronto oh che bello l'ho detto che bello che cazzo sbrigati muori devi morire ok perfetto affrontarlo insieme a qualcun altro specie a un bigorn sarebbe stato un po' un ditino nel posto birichino ok eh sei morto a livello di dati ho mezzo cuore di fede anche se la cosa si ok non è morto ok purtroppo gli angeli io ho il problema che non li so leggere quindi non ho idea dove sparino quando sparino ok morto in fretta perfect Titanic Bible non mi serve però dagli dagli raga due terzi dagli raga due terzi ok la stanza segretta era qui una moneta ah per il permesso erano i codici si prendila per bookworm porca di una vacca hai ragione hai ragione ah Mr. Dolly non mi serve abbastanza di nulla gli angeli prematura stuzzi davanti leggermente di lato eh ah una chiave mi servono solo per aprire gli sforziere adesso ok 35 vediamo cosa c'è questi blood oggettone quello che più gente uccidi e più ti potenzi minchia oggettone ciao Alberto come si blocca questo personaggio allora adesso perché prima era un procedimento lungo e difficile adesso devi morire con qualsiasi personaggio forse solo con Isaac no mi sa con Isaac morire tenendo in mano il missing poster in una stanza di sacrificio cioè devi proprio ucciderti quelle con le spine per terra non quelle con l'entrata devi ucciderti lì se non ricordo male solo per una stanza se la via resetta si fa adesso mi faccio tutto allora gli oggetti fanno schifo che portare due trinket sinceramente ne faccio a meno oh tanto sono un cretino avevo le bombe eh con questo bisogna morire con questo addosso con chiunque non solo con Isaac ok con questo qui addosso devi morire sulle puntine al centro di una sacrifice gli oggetti fanno ancora cagare eeeh andiamo avanti si 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 prende il missing poster è come un one up davvero? cazzo ah ah è un coglione lo stavo anche spiegando vabbè so che c'è un occhio anche sotto ok si il 16 di danno devo dire mi piace mi si imposta e ti riporta in vita come The Lost ok io pensavo che servisse solo per sbloccarlo e ti uccideva ok oh minchia non l'avevo visto questo qua alcuni concetti sulla core mechanic su quelle proprio da su quelle fighe mi mancano chi è? wuhu concat ok pronto non usciamo perché sennò perdo tutto l'attacco che ho che ho buildato con quella roba di Sansone non mi ricordo se è Lasty Blood Blood di Last cazzo quella roba lì vedete capito oh sotto terra il The Frail no non è The Frail oddio se non è The Frail con questo setup lo sbriciolo soprattutto con questo video di Salt and Sanctuary diciamo che non c'è un problema ci sarà una piccola pausina perché la settimana prossima non posso quasi dormire no vabbè dormire sì ma non posso fare nient'altro veramente quindi non posso registrare posso vedere per lunedì non questo quello dopo qualcosa dovrebbe uscire ma non prima e mi dispiace perché non siamo riusciti a a fare del backlog Lasty Blood ok come va? eh senza bene PONDO mori 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 ok mori 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 ok non c'è nessuno mori 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 eh ma tranquillo cazzo perché mi spiace comunque già non è che stessa andando a dio come serie in più se la sala abbandoniamo per una settimana se cazzo se cazzo se cazzo ok prendiamo il libro di velaglia tutta la vita va bene ok cosa è legata al lavoro non posso chiamarlo lavoro sarebbe un insulto al mondo del lavoro sto a vedere se rirolla entro due monete posso farlo peccato che gli oggetti facciano schifo quindi niente Leonardo niente tutto bene forse sto facendo una run che va bene forse 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 si si ma manca ancora gli oggetti e non ha fatto la trasformazione in ragno né quelle in bombe qui sono 5000 oggetti legati a quello vabbè vabbè ottimo diventi eh l'avevo detto l'ho detto se 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 ricapitava si va eh carichiamo eh load mushroom non mi serve a niente vero? perché sono cappato quindi semplicemente mi toglierebbe del danno perché ho preso dicevo perché diamine ho preso eh no ferma ferma allora il diventi rimane qui il diventi rimane qui e prendiamo il libro di Belial ce l'ho già invenita a proprietà di dietro di attive allora con calma con calma allora attiviamo adesso facciamo le cose con ordine ok eh attiviamo attiviamo il libro di Belial ci facciamo le ondate poi ritroviamo su prendiamo il diventi e cerchiamo di trovare una batteria ok ok allora carica no attiva il libro poi carica e via tanto a ricostruire il danno che avevo prima ci vuole poco eh ok il libro di Belial non stacca con se stesso quindi il danno non aumenta chi è? oh Bigorn scusami Bigorn come nemico normale in una stanza è simpi ok dovrei riuscire anche a fare i boss per proprio usufruire del massimo beneficio del diventi proviamo minchia polverizzati ciao Krampus ok allora stai là fino a 17 18 può essere forse è meglio fare già satana anche forse perché almeno così sono porte se non c'è una batteria non ne vale la pena cioè devo rirollare e cercare una batteria quello che mi sta dicendo oh che la trovo posto oh il chiodo chiodo carino meglio o peggio è meglio o peggio fatemi controllare allora binding visac gamepedia vediamo the nail ok adesso binding visac gamepedia book of belial allora book of belial increase damage by two sticazzi ok the nail 07 di brutto meglio belial ok il rilog della stanza negozio apertura casse allora rilog della stanza negozio ah ricarichi apertura casse da quando sono i vermi qui va bene allora negozio batteria ok quindi rilog vediamo nessuna batteria nessuna batteria però c'è no non mi serve a niente il pandora's box che se non ricordo male il pandora's box qui dà cuore di fede pandora's box se siamo nella darkroom ah no non dà niente no 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 darkroom shell no cazzo da un oggetto di satana però mi servono tutti i soldi che ho vero si dai va bene dai oh blankard 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 ah non in questo shell ok no blankard devo cercare delle car no 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 si batteria 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 ci siamo batteria allora quindi esco vado a reggermi l'ordine rirol della stanza batteria apertura casa ok 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 quindi rirol perfetto ora batteria raccolta di decini e cinquini neanche mezzo però mi serve una chiave per aprire quella cassa laggiù prendi la forcina così non ti servono chiavi e non adesso cioè devo per forza prenderne un'una poi devo tornare prendiamo la chiave ok ok quindi rirol c'è un cinquino ok prendo il cinquino devo prendere una bomba mi tocca allora batteria e paperclip ok adesso vediamo che sono le carte perché sono tipo amanti ierofant judgment non mi interessa ok sto cercando io per la grid ovviamente cinquino decine non ci sono tu sei the world quindi non mi serve ciao paul no ho preso una moneta dammit ditello allora ok ok troll bomb troll bomb allora decini decini il cazzo una carta canto of clubs non mi interessa particolarmente dammi questo paperclip né cinquini né decini no l'ho aperto non sta funzionando bene non ho soldi beh raga ci sarà un rirol in meno ripeto non sta andando bene non sto trovando soldi judgment judgment ok un'altra carta oh justice si da un botto di roba justice vai ok eh provando a rompere il gioco si quindi così via ok eh neanche un altro cinquino compriamo un'altra batteria allora eh vediamo un po' temperance no che altro non ho bombe per farle esplodere quello che volevo dire magician non mi interessa raccogli tre monete due tre allora facciamo questo per terra paperclip poi uno due tre troll bomb quattro ah uh bene sono altre cose e via c'è un cuore dorato che non mi interessa esploriamo un pochino ho la chiave dorata così posso posso rirollare paperclip e la bomba dorata queste due cose le raccolgo chiedo scusa ma il diventi rirolla troll bomb non lo so allora batteria ho visto un cinquino ma in mezzo a tanta roba devo raccogliere un po' di cose allora c'è la paperclip non mi serve quindi se trovo un trinket migliore sarebbe meglio basta prendere basta prendere se raccogli il cuore dorato darò più monete ah sì ah ok no non è una bugia è una bugia sto pensando a chiave dorata sì queste cose le bret ok ora paperclip se ne può andare un duro livello la chiave dorata beh sì mi serve qui prendi le forbici così rirolli le troll bomb ah sì ok dovrei prendere quel decino quel cinquino anzi ole strazzetto carro hierophant bene qui magicia non mi serve sto facendo un po' di giri in girelli questo è il carro di primo ok perfetto ora apriamo le casse e rinolliamo forbicine ole ole che hanno merda sono circondato da oggetti ci passo sì ok piano piano qua forse ok ah tra l'altro posso fare una cosa esatto quello che volevo fare era proprio questo magari ci sono degli oggettini ok quindi ho cinque monete cinque centesimi non ho altri cinquini decini manco per il cazzo ok riroll cinquino ho una chiave carica bene c'è anche il fuoco blu non ho visto va bene ah sì la cosa di baggari al fuoco blu sì ah chiave carica la prendo così sono carico poi cinquino lo prendo perché se no tutto ciò lo sto facendo per un cazzo two of diamonds ok ok cominciamo a ragionare dammi two of diamonds cinquino chiave carica e casse mi state dando mi state prendendo per manina praticamente ok ho preso una moneta me ne pento vieni da papino cricchiazzed vieni da papino lascia il two of diamonds non shop vabbè ce l'ho addosso anche perché se esco ho imparato ho imparato se esco vinculo che rirolla meno roba eh 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 l'ho fatta apposta per mettermi alla prova eh mancano due casse ok porto a fare il cio di diamonds il prima possibile ok ora rirolla ottimo c'è solo 0-31 di danno si è normalissimo eh perché ehm è normalissimo perché ehm ho già il magic mushroom che è già un aumento e gli ho moltiplicatori danno quindi non si moltiplicano tra moltiplicatori quindi se il magic meter aumenta un po' il danno il sole ok cinquini decini cazzo eh ah decino seguo da quando facevi il rotto del hand eh eh questo è anti-birth batteria giusto batteria è una rottura molto lenta estremamente lenta la mia forbicina allora piano piano lei è the fool no ho preso una bomba vecino ah è più piccola ok comincia ad essere un po' pieno di roba che non mi è necessaria è un altro questo invece è bello lei è un jera? no è un e-watch oggetto questo è anti-birth ah sì? davvero? ah ok c'è quella cassa rossa laggiù che non vuole essere aperta ah hm ha dove è finita? sempre lì ma ho aperto il passaggio tra il bomb tra il bomb ok quindi pronti e un due tre rirol c'è una chiave carica allora altro c'è un diamo qui ne varrà la pena eh spero minchia come mai siamo i 78? la gente adesso gioca gli piace di nuovo Isaac? sono contento ma siamo tutti su su youtube? siamo solo su Twitch? allora una chiave carica quindi non devo comprare batterie vale tra un'ora è finito sì oh ma neanche un decino eh cioè prima sì ma uno cazzo 27 su Twitch ok no sono tutti su youtube nessuno scrive tra l'altro con adesso fart non faccio diventare tutti i cuori così rirollo più facilmente 46 su youtube che dovrebbero andare tutti su Twitch perché Twitch ha la chat dove la gente chiacchiera raga non sto più vedendo niente è un problema eh non è stato il punto in cui c'è troppa roba su schermo usa le casse poi Ace of Art ok mercoledì sì sto guardando se c'è qualcosa di utile ma non mi pare quella carta cos'è? Temperance posso farlo ah questo Temperance ok ok quindi Ace of Art ok adesso che dato che sono cuori posso farmi un po' di spazio cioè così solo con quelli rossi posso farlo ehi faccio cerco di farmi una colonna un po' ok simple13 benvenuto su Twitch dovrebbe apparire dopo allora ha ok allora alla ricerca dei cinquini e dei decini no 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 però però là c'è il cruvetone dovrebbe essere simple13 perfetto grazie per seguire i suoi Twitch allora batteria sì 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 allora carta rossa che è un 205 non mi serve il corno l'ho visto l'ho visto l'ho visto eh niente ho preso una night corno lo mettiamo qui no mi serve niente ciao Carmelo Gallucci e bello benvenuto su Twitch pare dopo quanto parla l'annuncio ma mi arriva prima l'email su Farts su Space di Giuda Ripcage no ok non mi serve niente questo lì come dicevo attento al baule con le spine c'è un baule con le spine ok come dicevo non ho scelto bene il mio nome è un perculo davvero non è difficile ha scritto Vanlop no è più tira e curve d'ordi brutto ma da quel punto può anche sbattere se ne accogli qualcosa non è di disimplice ah no 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 con dell'ho deve stare attenta lo so allora Steven vieni da papà vieni da papà allora quello non lo devo toccare grazie per avermi fatto vedere la tua vera natura poi te ah giusto se diventi la bomba normale cioè se devo raccogliere qualcosa preferisco raccogliere monete sinceramente perché quelle mi servono ribcage vabbè rib of greed come cacchio si chiama ok oh salve è preso perfettamente deve essere perché entrambi andavano da sparrucchiere ah è la telepatia dell'essere eleganti allora olè ah merda ho preso una bomba vabbè partita vinta raga partita vinta abbiamo a bele abbiamo a bele raga tocchiamolo che è un terzo di bomba i can show you do bob greenish splendor ok tutto aperto parte quella sì e poi mi sono chiamati iscritti poco stroica no perché se qualcuno non ha visto la serie songs of war sembra un insulto allora la funzione di bomba è una mezza cagata come osi parlare male del signore padrone dell'universo olè io continuo a preoccuparmi esploda tutto allora chiavi cariche non ne vedo no quindi prima di tutto negozio batteri madonna quanto lento quanto lento cuse di conquest non mi ricordo cosa faccio ma di norma niente di buonissimo ok ho visto che c'erano dei decine di cinquini eh tranquilli ansuz mi serve particolarmente chief diamonds invece può servire a qualcosa allora mi sono nella cappella di bumbo nooo le casse nooo lo sapevo lo sapevo lo sapevo lo so non scusa non scusate devo passare allora dov'è fatemi controllando le cose eh si minchia ci provo ma ah ce l'ho relativamente fatta si vero eh no minchia ok eh ok prendilo prendi questo not crack no ok finché non hai 40 danni in un tale bombe non hai vinto con certezza no infatti ok e via allora che hai carica ci sono ben due casse che fanno male hai 60 monete per iniziare a comprare qualcosa credo che la roba del negozio faccia cagare eh boh questa allora cinquini ok tutto cinquino vabbè facciamo anche quelle non le apro facciamo allora il bambino evita più che puoi si infatti era mia intenzione mimica non aprirli no infatti ok ho lasciato lasciando dei cinquini dei vicini credo di no no sì vabbè sentite ok ripeto certo punto ciao fate non l'avevo visto per dire eh allora chiave carica non la vedo perché non c'è perché non la vedo 88 monete 88 monete ok 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 allora allora vai un sacco eh c'era una batteria dentro scemo io ah testa di gap carino lì c'era un decino ho sentito il rumore ma non c'è decente no oh cacchio allora meccone ma mi manca trovo di nuovo la blank card dici che può risponare ci sono altre mimiche perché non vorrei morire no direi io non ne vedo se ce ne sono altre ci sono troll bomb che torna da normali ok hai perso l'alimento sì lo so ok ah che ho una chiave carica beh c'è una chiave carica allora no meno meno spinta ok e via infestation grazie perché è esploso? ah perché ho perso da qualche parte le forbicine laggiù ok non è un alimentolo ancora minchia potevo morire così come un coglione uh è andata bene ah c'è una casa da aprire allora c'è Bob's brain l'ho visto ora muore ok ora di nuovo l'alimento cosa vuoi rirollare che ho un po' set oh mumski posto ho troppe mosche e quello è il problema che cazzo è sta roba vabbè il problema è quello ho troppe mosche e non mi fanno vedere attorno a me cosa c'è uh cancro mi fa scendere sotto qualcosa mi ha fatto esplodere perché è certo ho preso cancro per là c'è un dry baby dry baby ah cancro è buono ma forse è meglio non potrei attaccarmi le forbicine porta via cancro ma butto via un sacco c'è una chiave carica ma io ma sono già carico esci dalla stanza dite cioè mi perdo un sacco di screen ma si sentite sentisco anche di sotto guarda oh ci sono le bici ok ok allora boh è un segno raga è un segno va bene no 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 scusa non ho più fusto porco me porco me un attimo che sono psicologicamente non a posto va bene ok ok allora usiamo usiamo ok da cuore di fede perfetto ancora il fuse sì adesso me ne accerto in continuazione deve uscire il pentolone sono 19 anni rischi di farmi morire forza fermo che cazzo sei pertro vabbè pertro può essere utile allora triplo bob's brain non usate capsule o craga se no vi autobannano e rispetto alla channel si la channel's brain sì devo diventare imbunale bombe poi li prendo ve lo prometto poi li prendo quindi re-roll allora ah chi ha le cariche ho l'olemental sì crema fare minchiate c'era un decino mi sono perso un decino vabbè succedere allora compriamo altre robe diamo vabbè un breakfast ha stato qualcosa quanto casino raga pertro sì pertro puoi portare due trinket ah sì non importa casino pensa all'obiettivo allora eeeh forbicine eeeh ha aperto tutto sì decino aaaah forbicine non siete forbici ecco di qui 12 dials ottimo il dollaro dollaro ah sì c'è il dollaro non c'è il dollaro c'è la credit card tipo tipo no 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 non è vero non è vero non è vero non ce l'ho più non ce l'ho più sono tutto come anche lord of the flies adesso c'è un two of diamonds da qualche parte la papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa c'è una cassa chiusa questa listo devo andare a recuperare con il two of diamonds dett'al mimix sì sì lo vedo è lì che attenta alla mia vita Eccolo qui Two Diamonds Poi Ok No Voglio Two Diamonds Porco Two Diamonds Adesso Dov'è andata Come se arrivate a questo Quando mi è arrivato Il diventi Ha Ok Vorrei uscire No È rimasta qui Two Diamonds Ok Breakfast One App Magics Cup Two Diamonds Abbiamo tanti Snatchbook Aspera Pillolame sparso Non è che mamma Ottimo Già Schi Batteria Il mio cervello Non ce la fa più C'era anche una chiave carica Sì Vabbè Mi sono un po' tuffato Ho fatto 48 monete Così Tuffandomi So part Che non trovi Blankard Devo andare avanti così Lo so Qualcosa è esploso Mi sono fatto male Boh Credo Forbici Sì Adesso le vado a cercare Adesso no La No 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 Ma niente di merda Basta Non hai olimento Grazie Rirulliamo Vorrei uscire Posso? Sa di no Ciao Alexander Il mio cuore è esploso Pensa al mio Sono span Sono tutto Grazie Sono fun guy Sono tutto Ci sono due forbici È vero? Ok Sì sarebbe carino Che arrivasse il calderone Sarebbe molto carino Nemici Grazie Prende boss brain Se sbaglio No Non lo prendo per sbaglio Lo prendo con coscienza Boss brain Sono ancora le forbicine Sì Un decino Un decino No No Le forbici Ci sono? Ok Pokéball Via No Tre boss brain Veramente Devevo essere sprecisini Sono tre boss brain Nutcracker No Voglio che le forbicine Sia la prima cosa che prendo Ok Sono anche Mida Stato Sì sì Stiamo qui fino a Pai Romaniac Ma certo Se no me ne sarei andato Anche Anche perché Soprattutto adesso Che ho preso Boss brain Capite da soli Che è necessaria L'immunità Alle bombe Ok Ok Forbicine ce l'ho Ottimo Via Fuori Prendiamola Poi Adesso Forbicine Che voglio fare ordine Voglio fare un po' d'ordine Qui in giro Ok Se sei una persona Che piace Boss brain No no Piace anche a me Ma con the lost Come dire È un po' a rischio Allora Con calma Vediamo questo Vediamo questo Vediamo questo Vediamo questo Vediamo questo No Non ancora Barbicine Ok L'ho vista L'ho visto il mimic Rirolla No Se rirollo Perdo le Perdo le Le batterie Eh Non è Stop Ok Principi si sconda No Il king baby È È È È Il male Il king baby Fa schifo Come oggetto Bicino Sono diventato Boh Qualcosa Perbicine Senti Tanto Prendi La seconda box Brain No Finite Stop Sono senza Olimento Mi sa Mi sa Mi sa Di sì Ok Piano eh Allora Oh no Meno male Che ce l'avevo ancora Se non ero morto Dov'è Dov'è di 20 No Raga è probabile che ci muoia io se continuo a fare sta roba eh sappilo sappiatelo È probabile che ci muoia sentite rirollo subito Via Interbomb Interbomb Technology Ancora niente Le stopper Lo sapevo Lo sapevo Dovevo bloccare le troll bomb Lo sapevo Morite tutti Trov'è Ok Ok Corpiccine Corpiccine Triple off drain Non c'è più la scheda di discussione su youtube No c'è la scheda community se non sbaglio Cambiata così tipo Mimic Piforia Dov'è la forbicina? Forbicina Forbicina Andiamo a comprare Tanto abbiamo deciso che diventiamo immune alle bombe giusto? Ok Devi pubblicare qualcosa in modo che la gente possa commentare Tipo scrivere richieste Che stima di merda È un problema Non ho Non sto trovando quello che mi serve E il problema cos'è? Che mi servono tipo due oggetti in tutto Isaac Quello è un po' un problema Cesoe, cesoe, cesoe Finger beam No, è way to walk Non ci fosse nel pool di questa partita Non è che può decidere di non esserci, eh Bob non è in una le bombe Forbicina Che sappiano Oh bene, tic Ottimo Dove sono le forbicine? Forbicine Adesso le perdo Le perdo subito Perché Primo trinket che trovo Non potrebbero più prenderne due Perché uno è tic per forza È un casino Ok Ho perso il D20 Dov'è il D20? L'ho persa Ok Allora Ho trovato Ipecac? No Fast Bond Spolle Ci sono troppe attive, raga Troppe attive Oh Spermico di fine Più scatter Vol'è in chain Apriamo un po' di cassa Adesso sono semplicemente al momento Cerco di fare soldi Basta Ok Non so Anche Serafino Mela Aspetta Minard Vadi È evidente Dove minchia Non ha più stopper? Dov'è? Là Sì, è un trenino dietro C'è anche un altro corno Rosario Rosario Non hai caos No No Non me fa ad esserci Misteri della fede, raga Dov'è il D20? No Più Ah ma non è carico il D20? Scusate, ho fatto confusione Scusate davvero Sono confuso No Isaac's Heart Dov'è? Non c'è Voi lo vedete? Raga, devo fare un attimo di pausa Torno tra pochissimo Arrivo Raga, devo fare un attimo di pausa Poltan Raga, devo fare un attimo di pausa La Burns'下 Scusate davvero Se un attimo di pausa Grazie a tutti. 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 Allora, quello che stavo pensando è esattamente quello che state pensando anche voi, cioè che adesso che ho Isaac's Heart, Pyromania che è probabile che non funzioni più. Grazie a tutti. Penso di non avere più il coso, quindi esco e rientro. Se ero l'Asse con un D4? Ah, non ce l'ho, quindi non posso. Tra l'altro, se non sbaglio, correggetemi se dico una cagata, davvero. Tecnicamente adesso io, cioè il mio alimento non funziona più, giusto? Allora, allora... Quindi ho un colpo solo per... Cioè, posso prendere veramente un colpo solo per muoio. Lo so che non ho più le forbicine, ma non ho più le forbicine, ma non ho niente dove siano. Mi number 2 è tecnologia che non puoi sparare, sì che posso sparare. Basta fare così. Basta non tenere premuto. Sì, dammi le due attive, nel senso, cioè... Libra! No! Schifo la vita, ragazzi. Col piano sotto, dite? Provare col piano sotto? Sì e no. Ti applichi a rovinare, perché secondo voi io sto vedendo cosa raccolgo. Potrei avere uno di tears, comprendendo cancer. Cancer è sotto. Ti devo andare a vedere. Cancer. Ho due di tears. E ogni tanto rilascio queste cacchette. Beh. Dopo aver fatto la cacca o 36 di danno, non so per quale motivo, eh. Ah, giusto, perché aumentando le tears, cancer aumenta, cioè Libra aumenta tutto. Benvenuto, frame SH. Beh, facciamo una bella cosa. Andiamo a rirollare di sotto, se si può rirollare, se non si può rirollare, a me. Sure time, mostra l'altro. Ok. Ok. Credit card, cosa fa? Tutto gratis. Dato che comunque voleva andarmene via, mi va bene lo stesso. Anche perché se tipo compro, no? Quello che c'era da comprare, che doveva acquistare, sì. Perfetto. Allora... Allora, rirolliamo. Sapevo che era l'ultima. Dammi questo. Diamonds of diamonds. Attiva due volte. Dammi questo. Questo. Dammi questo. Dammi questo. Dammi questo. Perché giù la shadow? L'ho perso... Dov'è Cancro? Sarà rimasto giù. Sì, sicuramente. Ok. Teniamoci due 12 diamonds. Dicevo. Due 12 diamonds. Cancro che è là. C'è una cosa che prima raccogliamo tutto quello che c'è da raccogliere. Ok. Sì, sì, sì. Raccogliamo tutto. Andiamo al prossimo piano. Ok. Il fatto che adesso sarà un casino trovare l'altro True Diamonds. Questo è parto. Questo è parto. True Diamonds è proprio qui. True Diamonds. Dicevo. True Diamonds. Ok. Lasciali qui. Ottimo. Allora. C'è qualcosa da raccogliere. Il sap non serve. Il sap non serve perché se non serve. Il Drogi non serve. Il Drogi non serve. In qualsiasi momento in qualsiasi stat va bene adesso che ho causo. Perché tanto... Allora, il D20? Il D20? Allora. Allora. Ok. Allora. True Diamonds. True Diamonds. Perfetto. Prendi libro? No, ormai sono già Book War. Sono già tutto ormai. Andiamo giù. Potrei aver lasciato di tutto, non mi frega niente. Il mio cervello non ce la faceva più. Ok. Allora. C'è una macchina per il reroll? No. Ok. Così. Più di tot non potrà fare. Trovato stat? No. Non l'ho trovato. Bomba. BFF. BFF non mi sembra un gran piano, eh. Secret room al negozio, vediamo. C'è un BFF. Che cacchio è la stanza segreta? Perché può essere tipo qui? Esatto. Rende l'Azaxar... Rende l'Azaxar più grande. Sapevo anch'io. Non ho idea dove posso essere la stanza segreta. All'Azaxar. 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 Vediamo... All'Azaxar. 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 Non posso comprare niente. Prendi All'Azaxar. Sì, prendo All'Azaxar. Posso fare shopping di carte. Magari mi esce la Cowskart. Cazzo. Space. Temperance. Algiz è inutile, vero? Non serve a niente Algiz. Vedete, ragione. Cario. Il Cario. Eh, lo so. Quando sento rullare, lo so che c'è... Cosa vuol dire. Lo so cosa vuol dire quando sento rullare. Eh no, Algiz non mi... No, raga, Algiz non serve a niente. Non serve a niente Algiz. Ma non c'è Cowskart? Non avevano detto una volta che la Cowskart non può spawnare in Ultra Griglia. Ricordavo male io. Perché io ricordo un discorso del genere. No, aspettate. Sono più forte e con più monete. A posto. Algiz, sono sicuro non mi serva. La porto giù così per sicurezza. Ok, andiamo. Beh, facciamo che arrivo con le monete al massimo, va? Ok. Eh, mo' si prega. Sì, mo' si prega. Devi prendere un patto in più. Sì, raga. No. Sì, raga, no. Una fortuna. Eh, serena. Ok, ho perso l'alimento perché c'era la mia cacchina che mi ha fatto male. Ottimo. Io lo provo sempre. Mi sa che funziona. Yes! Yes! Comunque avevo altre vite perché avevo il one-up. Yes! Minchia! Finalmente venì. Una cosa positiva. Avevo giù da shadow. No, no, avevo anche one-up. Ecco, non so cosa si attivi prima, capiamoci, ma... Eh, ripeto, non so...